Qui il nostro lavoro nella parrocchia di Saione è proprio quello prima di tutto di dare un'accoglienza ai fratelli di strada con anche un servizio di doccia, di lavanderia, dopo che si sono lavati lasciano i loro vestiti, noi li rilaviamo, li conserviamo e quindi gli diamo un po' la possibilità di avere un minimo di igiene. Le suore serve di Gesù Povero in aiuto dei più bisognosi a Saione. Voglio dire grazie a tutto il staff di Saione perché sono stato in difficoltà, ho avuto un incidente, dei fratturi, dei interventi chirurgicali e le sorelle, i padri, tutti mi hanno dato una mano sempre. Ci laviamo da loro, si mette a disposizione, sono dei bravissimi suori. La comunità è presente nella diocesi di Arezzo Cortone e San Sepolcro nella chiesa di San Francesco stigmatizzato dal gennaio 2021. Fondata a Trapani nel 2005 da suor Maria Goretti, la comunità nasce con il carisma del servizio ai più poveri, agli esclusi, agli ultimi della società. Nella parrocchia di Saione si occupa di un servizio di doccia e lavanderia quattro volte a settimana per i senza tetto. È un servizio di ascolto sia per coloro che bussano per i bisogni materiali che per coloro che hanno bisogno di un aiuto spirituale. Ovviamente anche nella nostra accoglienza vogliamo anche cercare di dare alla persona non solo un tetto, come dire, hai una stanza, un tetto, ma anche un calore, un amore, un ascolto. E laddove la persona si apre anche all'esperienza, al voler incontrare Cristo, è per noi soprattutto quello il desiderio, nella libertà dell'altro, però di portare Cristo a coloro che si avvicinano a noi. Le suore presenti attualmente sono sei e da qualche tempo, grazie alla disponibilità del parroco, la comunità ha potuto iniziare un'accoglienza a qualche persona senza tetto. In questa occasione vorrei ringraziare lo sponsor che ha aiutato a realizzare la doccia per i poveri e anche rinnovare i bagni. Abbiamo ora a disposizione due bagni, uno per disabili. Davvero ringrazio Paolo Fucci di cuore. Chiaramente noi proprio perché viviamo di providenza accogliamo tutto quello che come aiuto ognuno voglia dare, in spesa, in alimenti, anche perché dimenticavo magari di dire che appunto ci sono quelle famiglie che a volte bussano alla porta anche per una spesa alimentare, chi vuole fare un'offerta, chi vuole anche collaborare con un po' i nostri servizi. Quando tu doni a qualcuno qualcosa sei anche tu che ricevi, che ti riempi di quello che ti manca, che tutti siamo assetati di amore e quindi solo donando riceviamo. Grazie.